Ansa Voice Parliamo anche di banche di nuova generazione che operano online senza sportelli. Un mondo che cresce in Italia e attira capitali internazionali. Dal 2016 a oggi i finanziamenti raccolti sono aumentati con una crescita media annua superiore al 60% fino a raggiungere nel 2022 il miliardo di euro. Un significativo aumento rispetto ai 900 milioni del 2021 e soprattutto ai 247 milioni del 2020. Ad analizzare l'evoluzione del panorama fintech in Italia è la seconda edizione del report Fintech Waves realizzato da EY in collaborazione con il Fintech District attraverso interviste a più di 100 operatori del settore. Ascoltiamo il commento di Andrea Ferretti, partner di EY, in occasione dell'evento di presentazione del report a Milano. L'ecosistema fintech italiano sta dando segnali di maturità e ha mostrato una grande resilienza e una grande capacità di sviluppo anche in un periodo come quello trascorso negli ultimi 2-3 anni che si è evidenziato veramente difficile. Abbiamo affrontato una pandemia, abbiamo affrontato tutta una serie di situazioni macroeconomiche difficili e una guerra purtroppo ancora in corso. In questo contesto il nostro ecosistema fintech ha saputo adattarsi alle nuove situazioni di mercato, ha saputo continuare ad investire per poter crescere, evidenziando quindi anche la capacità di attrarre i capitali, soprattutto dall'estero, con dei business model che stanno risultando sicuramente più maturi rispetto al passato e quindi stanno consolidando un certo posizionamento sul mercato. In questo contesto noi abbiamo analizzato quali sembrano essere i principali ambiti di sviluppo e quindi dalla nostra analisi, partendo dai trend che caratterizzano il mercato degli incumbents, quindi degli operatori finanziari tradizionali, banche, assicurazioni e società di asset management e contestualmente cercando di capire come le fintech stanno interagendo sul mercato in una logica B2C, ma anche verso questo incumbent in una logica B2B, abbiamo identificato alcuni cluster che mostrano maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo sul mercato, che sono di fatto i cluster relativi al digital lending, all'insurtech, a tutto quello che riguarda l'ampia gamma di piattaforme techfin e naturalmente i digital payments. Digital payments è il settore che sta raccogliendo maggiori capitali, abbiamo anche due unicorni italiani oramai e quindi è il settore che più di tutti ha avuto in questi anni uno sviluppo considerevole con un posizionamento sul mercato cross industries veramente molto importante. Ma cosa significa fintech? È la crasi tra le parole finanza e tecnologia ed è costituito da realtà che hanno lo scopo di innovare i servizi finanziari tradizionali. Il settore è costituito prevalentemente da giovani talenti che conoscono le nuove tecnologie, però questi talenti non sono ancora abbastanza. Secondo il report, infatti, quasi due aziende su tre faticano a trovare persone con le competenze specifiche sul mercato italiano. In primis mancano gli scienziati del dato, come spiega Clelia Tosi, Head of Fintech District. L'ecosistema fintech possiamo dire che finalmente è maturo. I dati della ricerca ce lo dicono, abbiamo realtà che ormai si stanno posizionando sia a livello italiano che a livello internazionale. Un'interessante raccolta di investimenti sia per quanto riguarda gli attori italiani ma soprattutto anche a livello internazionale. Abbiamo VC che continuano a essere interessati al nostro ecosistema e poi abbiamo avuto i nostri due unicorni, quest'anno Scalapei e Satisfay, che sicuramente hanno aiutato a rendere interessante il nostro mercato. Quindi è sicuramente un momento di grande consolidamento con anche alcune, ovviamente, qualche luce e ombra, ma una logica comunque di crescita. Devo dire che dalla ricerca è emerso che il 60% circa delle aziende che abbiamo intervistato ci dice che non trova le competenze che sta cercando. Ovviamente sono per lo più focalizzate su competenze tecniche, c'è tutto l'ambito dell'artificial intelligence, del big data, quindi i famosi data scientist che sono veramente molto difficili da trovare nel nostro mercato. Però ecco, la vedo anche come un'opportunità sia di aprire il nostro sistema a talenti internazionali che possono arrivare in Italia, sia anche uno stimolo per tutto il mondo, diciamo, dell'istruzione, fino ovviamente alle università, per creare dei corsi di studio dedicati a queste competenze che già stanno nascendo ma che sicuramente hanno ancora bisogno di crescere. La parola d'ordine per trasformare il sistema finanziario è la collaborazione tra le fintech e gli operatori tradizionali, una collaborazione che oggi, a differenza del passato, è possibile. Il 90% degli operatori del settore ha avviato negli ultimi due anni una partnership, specialmente con istituti finanziari tradizionali, in particolare per il lancio di nuovi prodotti e servizi. Ascoltiamo il punto di vista della più antica banca del mondo, Monte dei Paschi di Siena. Fabrizio Leandri, CF Lending Officer. L'innovazione è un tema di mindset culturale, è un tema culturale. Come tutti i temi culturali richiede del tempo, però sicuramente l'onda è un'onda che avanza. Io se guardo oggi, se guardiamo oggi tutti i piani industriali delle imprese bancarie, delle medie, delle piccole, delle grandi, uno degli hot topics, dei temi è effettivamente quello dell'innovazione, spesso confusa con la tecnologia. È evidente che oggi per questo modello di business, il modello di business bancario, è imprescindibile occuparsi in maniera seria e strutturata di questo tema. Tra gli operatori che si sono confrontati a Milano nella sede di EY, c'era anche Maurice Lisi, Head of Digital Business di Biperbanca, che ha posto l'accento paragonando le opportunità offerte dal fintech nei paesi emergenti. Noi vediamo sul contesto internazionale uno scenario in profonda trasformazione. Le fintech hanno permesso di raggiungere clienti che non erano mai stati raggiunti dalle banche tradizionali e del motivo per cui noi vediamo che nei paesi emergenti, pensiamo al mondo della Cina, Malaysia, tutti i paesi dove il tema della financial inclusion era un vero tema, le fintech hanno permesso di distribuire e raggiungere tramite i servizi finanziari quale clientela che non era minimamente servita dalle banche tradizionali. Abbiamo grandi esempi, se noi pensiamo a WeBank in Cina, più di 200 milioni di clienti in 7 anni, Pay From Mobile in India, più di 300 milioni di clienti. Tutti questi scenari hanno permesso, grazie alle fintech, di distribuire servizi finanziari di base alla clientela che era principalmente basata su una cash economy. Dunque fintech sicuramente sul contesto internazionale sono stati dei trascinatori dei servizi finanziari permettendo di raggiungere uno space di 5 anni, quello che in più di 50 anni le banche non sono riuscite a fare. Ascoltiamo allora la testimonianza di una fintech. Oktober, società tecnologica nata in Francia e presente anche in Italia, specializzata nel lending. La sua missione è semplificare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Sergio Zocchi, CEO di Oktober e presidente dell'associazione Italia Fintech. La collaborazione tra fintech e banche lo vediamo nel nostro caso di October, ma insomma anche con l'associazione Italia Fintech lo vediamo anche in molti altri ambiti. Oggi parliamo di lending, di digital lending, ma insomma si applica anche in altri settori. Ma nella nostra esperienza è effettivamente una evoluzione, se vogliamo, necessaria e assolutamente ricercata e positiva con effetti positivi da entrambe le parti potenzialmente, quindi lato banca, lato fintech, ma soprattutto a beneficio poi del cliente finale. L'innovazione che noi portiamo, la facilità di accesso al credito che permettiamo a un'impresa, si data dall'utilizzo dei canali digitali, da diciamo una client experience semplificata, ma soprattutto tutto ciò è reso possibile dal fatto che abbiamo investito e continuiamo a investire in maniera estremamente forte sull'innovazione dal punto di vista tecnologico di tutti quei processi decisionali, quindi modelli di rischio, modelli di credito, antifrode, che fanno la differenza, che ci permettono di effettivamente portare sul mercato una proposta che è veramente complementare, veramente innovativa. Protagonista sul fronte degli investimenti è Cassa Depositi e Prestiti con CDP Venture Capital che interviene a favore delle start-up grazie a fondi specializzati partner attraverso CDP Venture Capital SGR. In Italia si registra una crescita importante del Venture Capital. L'ammontare investito infatti è passato da 1 miliardo e 2 nel 2021 a 2 miliardi nel 2022, con una crescita del 67%. Laura Scaramella, partner CDP Venture Capital SGR. Credo che questa forte accelerazione sia anche merito di CDP Venture Capital, per la quale ho il piacere di lavorare. È stata fatta un'azione sistemica davvero molto importante, da quando siamo partiti a gennaio 2020, quindi esattamente tre anni fa, abbiamo avuto una dotazione iniziale di un miliardo che è stata declinata in dieci fondi di investimento diretti, indiretti, e quelli che noi chiamiamo territoriali, ossia un network distribuito sull'intero territorio nazionale di poli di accelerazione e di technology transfer, che sono finalizzati proprio alla creazione di quella che è Origination, quindi nuove opportunità, nuove start-up, nuove idee territoriali, scoperte scientifiche e invenzioni innovative. Ad oggi abbiamo investito un miliardo di euro, gli asset partner management che abbiamo stanno crescendo in modo davvero molto importante per arrivare a più di 5 miliardi già da quest'anno. Credo che in questi tre anni CDP Venture Capital sia riuscita a mettere delle solite basi a quello che è il framework di sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione del paese.